eccomi 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 buonasera amici amiche rosso neri ragazzuoli ragazzuole belle bentornati ben ritornati nel mio studio ragazzi ci saranno altri complimenti che arriveranno più avanti adesso vediamo un attimino come organizzare organizzare le cose la sciarpa non è sparita c'è sempre la mia amatissima sciarpa del nostro amato minan devo trovare la nuova collocazione insomma le cose sono belle che fresche presto che tardi iniziamo buona serata di questo giovedì 12 settembre 2024 ore 19 25 7 25 della sera e vi auguro buon venerdì 13 settembre 2024 se mi guardate il giorno dopo ragazzuoli ragazzuoli belle parliamoci molto chiaramente sembra passata quasi un secolo da quando è arrivato redboard capital ad oggi lo possiamo dire con tutti i disastri che sta facendo sembra veramente passato un secolo ma che cosa a cavolo applaudo a fare applaudo a fare che sono guardate sono inferocito adesso non perché sono nello studio completamente rinnovato e quant'altro anzi vi faccio vedere anche una cosa qui c'è altro non ci sono non c'è solo il cervo con le cornazze qui ci sono anche delle opere d'arte una mia foto e l'orologio che segna il tempo vedete anche l'orario ci sono altre cose non è che c'è solo questo è non c'è solo questo il mio studio questa è una porzione del mio studio ma il lavoro è stato veramente veramente lungo uno di voi mi ha scritto che ha lavori corso in casa grande grande io ti abbraccio fortemente a tutti quelli che hanno ristrutturazione lavori in casa una fatica allora ragazzi parliamoci molto chiaro la cosa veramente mi sta facendo inviperire adesso vi spiego anche perché il protagonista di questo video è svone boban adesso vi dico in breve qual è il succo del discorso che ha fatto svone boban che tutti noi condividiamo che tutti noi sappiamo quello che ha detto boban già lo sappiamo e il quello che ha detto anche gerry cardinale oggi sì perché c'è stato un avvento di red board capital a londra e praticamente gerry cardinale ha parlato a braccio di quella che è la sua idea di questo inizio di campionato del nostro mira che è veramente nascifezza parliamoci chiaro bene allora ragazzi parliamo subito delle notizie di corollario più importanti vos praticamente è stato promosso in prima squadra prenderà posto di benasser e lui scelto tra zeroli e vos vos arriverà in prima squadra speriamo che faccia bene il ragazzo che non venga bruciato troppo in fretta insomma io auguro il meglio vostro poi sul discorso slatani braimovic udite udite quando ritorna slatani braimovic a seguire la nostra squadra ma questo non è che non gli frega niente ma questo qui c'è cos'è che c'è da fare questo va vabbè dai non voglio parlare mai di braimovic oggi ho parlato anche bene bisogna dirgli grazie per quello che ha fatto ma molto probabilmente adesso ne parliamo però slatani ritorna per milan liverpool per cui manco adesso con la ripresa del venezia ritorna ma c'è gerry cardinale allora parliamo prima di quello che ha detto gerry cardinale dell'evento di londra di red board capital gerry cardinale ha detto che non è per niente contento dell'inizio del campionato è letteralmente insoddisfatto sia lui che i braimovic lui ha preso i braimovic per affidarsi la sua capacità di conoscenza del calcio per tirare avanti bene il milan a quanto pare queste conoscenze non sono servite tra altre cose oggi ha risposto a livello social anche mirabelli ve lo ricordate mirabelli del passiamo le cose formali del duo falsone mirabelli mirabelli però ha detto una cosa giusta oggi io da pioli sarei passato a un top allenatore ma va e invece questi cosa fanno ci portano a fonseca e il disastro è bello che è servito non ci capite una mazza giorgio furlani slatani bremo c'è muncada adottava non ci capite una mazza punto ea capo va bene proseguiamo e il discorso è questo che lui ha lasciato le chiavi a bremo c'è per tirare sul discorso minan ma non sono soddisfatti non sono soddisfatti la squadra è giovane la squadra deve crescere dice gerry cardinale ha bisogno anche del tempo per portare a casa dei risultati però stanno facendo il possibile per non avere tutti gli infortuni che ci sono stati l'anno scorso perché già questo fattore degli infortuni praticamente ti fa proseguire mai nel campionato ma va che è scoperta l'america e questo è quello del discorso praticamente delle parole più importanti di gerry cardinale insomma morale della favola ve lo dico fuori dente siccome gerry cardinale sarà vedere la partita contro il venezia ha detto testuali cioè nelle sue testuali parole che ha detto che io adesso vi ho fatto un riassunto ha fatto proprio capire che non è contento per nulla ed è inviperito questo è quanto ragazzi questa è la verità sul discorso invece svone bomba che è stato intervistato che oggi ha riportato la gazzetta dello sport dell'intervista però era apribile solo a pagamento per gli abbonati della gazzetta io invece ho letto proprio appunto l'intervista per intero il discorso è questo è stato chiesto a svone ma puoi vuoi parlare di milan lui ha precisato subito e alcuni di voi l'hanno letto che lui ancora in causa con il milan ma più esattamente da specificare svone con eliot con eliot perché lui in causa con lui fu un dipendente di eliot ecco questo deve essere chiaro lui ama sempre in milan ma abbiamo a questo di svone lo sappiamo è amore incondizionato con il milan e sarà per sempre l'ha detto alla fine intervista amico di paolo maldini che sente sempre che sono saranno amici per la vita fino alla fine dei loro giorni il discorso è questo che svone oggi ha detto una cosa fondamentale che tutti noi sappiamo qual è il punto focale di questo disastro del milan in questi ultimi due anni praticamente qual è che dopo lo scoop detto la squadra è stata quasi smantellata nella sua ossatura principale qual è stata l'ossatura principale in cui la squadra è stata smantellata qual è stata tonali e chi che sì questo ve lo dico io lui non li ha menzionati ma questo ve lo dico io questa è la verità ragazzi questi due questi due uomini che sì e tonali sono stati fondamentali per noi fondamentali per tirare avanti il carretto sono stati uomini leader che ci hanno aiutato a vincere è vero che abbiamo vinto anche grazie allo scogliato grazie alle esige sprua di leao di teo ornandez e quant'altro però questi due uomini hanno fatto il loro e quando tu dai via due leader l'interno spogliatoio svone non ha detto di che si e tonali questo ve lo dico io praticamente vai a precipitare per cui questo ha detto svone boban è stato un errore madornale che sia chiaro lui ha tanta riconoscenza svone boban lo ha detto in intervista nei confronti di braimovic perché ha accettato di sacrificarsi in tutto per farci rivincere lo scudetto e di accettare un progetto milan perché non era così scontato ha detto svone boban lo ha fatto capire tra le righe non lo ha detto che sennò si poteva stare a los angeles a prendere la paccanata di soldi per cui lo ringrazierà sempre e ha parlato anche di altre squadre ha parlato di kuhminers che non è un giocatore che vale 60 milioni di euro ha ragione ha parlato che l'inter è sopra tutti e ha ragione anche in questo ha parlato comunque di sia una juventus si sta ricostruendo bene non ha menzionato nella lotta scudetto il napoli quant'altro però comunque il succo del discorso dell'intervista è stata proprio focalizzarsi su quello che è il problema del mina cioè che è stata smantellata tu con una squadra che vince cosa fare vai a smantellare sì alcuni fanno così noi non siamo gli unici ci sono altri club che hanno fatto così i club che fanno così non ci capiscono una mazza di calcio svone boba lo ha fatto capire chiaramente con tra altre cose la uefa con keferin non si parla più i rapporti sono completamente finiti perché ha detto che la politica si è intromessa troppo nel calcio la politica vuole comandare il calcio basta vedere anche quel discorso la russia fuori dalle competizioni di calcio tutto il resto e quant'altro insomma ragazzi questa è la situazione insomma svone ha detto delle cose che noi sappiamo ha parlato praticamente anche per noi io però vorrei vedere anche la tifoseria che si fa sentire contro sta proprietà che ne sta veramente facendo di ogni ci vogliono far passare la passione ma non la passione per il mina avremo sempre i nostri giocatori attuali non sono responsabili quello che sta succedendo i responsabili sono i nostri dirigenti e la nostra proprietà che sia chiaro poi altre notizie importanti questo momento non ce ne sono si attende la partita contro venezia che se non mi ricordo male dovrebbe essere sì cos'è questo sabato alle 20 e 45 se non mi ricordo male insomma noi domani ci vediamo in video per le ultime novità perché qua ogni giorno ci sono sempre novità ragazzi io vi mando un abbraccio presto che è tardi forza mila sempre comunque ovunque io vorrei che allo stadio la gente si facesse sentire di più contro questa proprietà che non ci capisce la mazza l'unica cosa che Gerry Cardinale doveva fare prendere un top allenatore questo qua ci va a prendere Fonseca e Adeletta questi dirigenti che capiscono la mazza questo comunque fa capire che la proprietà non sa di calcio e la dirigenza il fatto che il Breno ci torna per il Liverpool vabbè dai ragazzi vi mando un abbraccio ciao